Il blitz in via Orioli è scattato 48 ore dopo l'ultimo episodio denunciato dai residenti, quando una discussione tra un gruppo di giovani stranieri era degenerata con insulti, minacce e il lancio di una bottiglia di vetro verso gli inquilini del condominio che si affaccia sul vicolo e che chiedevano solamente un po' di silenzio. Ieri controlli congiunti di tutte le forze dell'ordine e dell'esercito sono scattati qui e nei giardinetti di Porta Altinia. Una ventina le persone identificate, 50 le dosi di droga nascoste tra i cespugli del parco sequestrate. Due denunciati, tra questi un giovane ben noto alle forze dell'ordine, mercoledì era stato bloccato dalla polizia locale perché in evidente stato di alterazione e molesto, la mattina dopo sorpreso a rubare in un supermercato e ancora durante il blitz sorpreso in via Orioli ancora sotto l'effetto dell'alcol. E sono proprio questi casi recidivi a rendere più difficile il lavoro della polizia locale, creando dei veri e propri paradossi. Ci troviamo di fronte a persone che sono recidive. I nostri operatori intervengono, ottengono il risultato al momento, identificandolo, presentando la denuncia, però di fatto purtroppo in molti casi ci troviamo a doverci confrontare qualche giorno dopo con la stessa persona che si muove sul territorio liberamente, senza nessun vincolo, senza nessuna prescrizione e che in alcuni casi commette le stesse irregolarità per le quali la nostra polizia locale era intervenuta.